pace e bene cari amici bentrovati in quest'ultima domenica dell'anno liturgico celebriamo la solennità di cristo re dell'universo un filosofo ateo ebbe a dire che noi veniamo dal nulla e andiamo verso il nulla non c'è spiegazione di nulla né alcun senso per alcunché ora pur nel rispetto di certe posizioni ma noi crediamo e professiamo tutt'altro e a mio modesto parere molto più bello pieno di gioia e di speranza e cioè che la storia ha un'origine tutto nasce dall'amore immenso di dio e ha anche un fine non è diretta verso il nulla ma verso un pieno compimento in cristo signore e la creazione non è in balia del caso né del caos ma è saldamente tra le mani di dio di un dio che noi crediamo essersi rivelato nella storia per mezzo di un popolo il popolo di israele ci ha parlato di sé ispirando i profeti e giunta la pienezza del tempo si è fatto uomo in gesù vero dio e vero uomo in lui contempliamo chi è davvero dio e quale immenso sia il suo amore per ciascuno di noi in gesù la seconda persona della santissima trinità si è unita per sempre alla natura umana e ora lo contempliamo glorioso che regna allora vogliamo approfittare di questa domenica per scoprire sempre meglio cosa voglia dire che cristo regna come egli regna qual è il volto del nostro re e il brano del vangelo ci aiuta proprio in questo anche se inizialmente ci spiazza un po il testo infatti tratto da luca 23 35 43 è un brano della passione uno potrebbe chiedersi ma la chiesa forse ha sbagliato perché che c'entra la passione con la regalità di cristo e c'entra ed è come se c'entra e non solo per il fatto che gesù sulla croce aveva un insegna con su scritto costui e le re dei giudei ma perché proprio attraverso la passione la croce possiamo cogliere fino in fondo cosa significhi per dio regnare percorriamo il vangelo quasi mettendoci nei panni dei personaggi allora anzitutto abbiamo la folla che guarda quasi la crocifissione è quasi uno spettacolo come un altro sapete un po quel senso di indifferenza di distacco i capi religiosi invece insultavano e deridevano gesù dicendogli ha salvato altri salvi se stesso se lui il cristo di dio l'eletto qual è l'idea che c'è qui di fondo l'idea è se questo è l'inviato di dio lo dimostri salvando se stesso dunque scendendo dalla croce cioè se quest'uomo è chi dice di essere si manifesti in modo potente si difenda si salvi si imponga l'evidenza qual è l'idea di sottofondo di dio se l'inviato di dio deve fare così dio è allo stesso modo cioè cioè chi è dio e dio è uno che si impone dio è uno che che benedice e interviene sempre comunque in favore del giusto liberandolo da ogni problema e viceversa viceversa se con il giusto fa così con l'infedele con chi pecca con chi sbaglia giù castighi punizioni e via dicendo dunque qual è l'idea di dio allarghiamo un po la domanda qual è l'idea di dio che molti di noi hanno nella testa basterebbe pensare associando cristo associando l'idea di dio all'idea di un re cosa ci viene in mente quando uno pensa un re pensa qualcuno che domina a qualcuno che legifera a qualcuno che sta sopra e gli altri sotto a qualcuno che si fa servire l'idea di dio infatti che noi abbiamo un po smaniosi di arrivismo di potere è proprio questa e dunque se costui l'inviato di dio salvi se stesso ma gesù non salva se stesso sopporta e si fa carico degli insulti e di ogni peccato pur di salvare noi e andiamo avanti abbiamo i soldati che lo insultano anche loro e dicono ma se costui il re dei giudei salvi se stesso a roma simpaticamente direbbero aridaie cioè stessa la logica se questo qui dice di avere un qualche potere a livello umano un ruolo a livello umano di essere qualcuno lo dimostri salvando se stesso è impossibile che una persona importante si ritrovi a soffrire per gli altri deve salvare si direbbe oggi la poltrona quanto è comune questo modo di pensare no pensare ai ruoli che uno ha come ha un potere da esercitare sugli altri e dunque e dunque qualcosa che da una parte torna a tuo vantaggio e dall'altra necessariamente a tenere gli altri un po sotto e andiamo avanti abbiamo uno dei malfattori crocifissi accanto a gesù e cosa dice ma se tu sei il cristo salva te stesso e noi certo e siamo a tre stessa cosa cioè se tu dici di essere l'unto di dio se tu dici di essere un benefattore se tu dici di amarci bene scendi da quella croce salva te stesso e casomai fai scendere anche noi qual è l'idea che sta sotto quando noi a volte soffriamo così nel momento del dolore a volte cosa ci capita di dire o di sentire ma se alla fine dio mi ama ma e io mi ritrovo a soffrire così o non ci sei o non ti interessa di me se mi ami risolvimi questo problema è quasi un mettere alla prova dio chiedendogli di dimostrarci il suo amore facendo ciò che noi vogliamo di conseguenza e anche e di nuovo un'idea di un dio che viene quasi con uno schiocco di dita a evitarti tutti i problemi perché lui per primo non vuole avere problemi e se qualcuno non fa la sua volontà giupalate allora capiamo così ve lo dico simpaticamente quale idea c'è che accomuna tutte queste posizioni e quel ritornello salva te stesso cioè qual è l'idea di regalità che noi abbiamo l'idea di qualcuno che salvaguarda se stesso imponendosi sugli altri ma qual è il volto invece di cristo che emerge nella passione qual è il volto di dio che gesù ci rivela qualcuno che non pensa neanche un istante a se stesso qualcuno che dà invece fino in fondo la sua vita per il bene e la salvezza degli altri qualcuno che neanche per un istante ha pensato di farsi i fatti suoi ma sempre solo e fino in fondo la volontà del padre cosa ci mostra gesù che regnare e servire vero re vera autorevolezza vera maturità e di colui che sa dare la sua vita per gli altri qualcuno libero da se stesso libero dal salvaguardare se stesso al punto da potersi donare fino in fondo per il bene degli altri ecco per cosa voglia dire regnare ed è bellissimo allora metterci nei panni dell'ultimo personaggio uno dei due malfattori che rimproverando l'altro lo invita a riflettere a dire ma guarda noi siamo in croce perché abbiamo sbagliato ma lui non ha fatto nulla di male eppure lì è in croce e gesù in croce lo sentivano pregare poco prima gridando verso il padre aveva detto padre perdonali perché non sanno quello che fanno e questo ladrone riconosce l'innocenza la grandezza di cristo del suo modo di soffrire di attraversare il valico dell'incomprensione dell'ingiustizia fidandosi fin lì di dio e amandoci fin lì si affida a lui e dice ricordati di me quando entrerai nel tuo regno e gesù gli rispose in verità io ti dico oggi con me sarai nel paradiso ecco cos'è venuto a regalarci il nostro re il paradiso accogliendo lui affidandoci profondamente a lui possiamo già ora fare esperienza in noi della presenza di dio della sua pace della sua gioia del suo amore e uniti a lui già ora possiamo essere liberati dal peccato dal nostro egoismo diventare capaci di donarci anche noi fino in fondo e un giorno poter stare finalmente indissolubilmente per sempre uniti a lui nel paradiso buona festa di cristo re dell'universo e che dio vi benedica tutti pace e bene grazie a tutti grazie a tutti